I manubri, a differenza della panca con bilanciere, fanno sì che entrambe le braccia lavorino in modo equo. Coinvolgono anche muscoli più piccoli e sono ottimi per ingrandire il petto. Inizia con un riscaldamento per preparare i muscoli. Superman Hold. Svraiati sul pavimento a faccia in giù. Allunga le braccia e le gambe. Contrai i glutei. Solleva le cosce e i piedi di un paio di centimetri. Mentre lo fai, solleva anche le braccia e il petto, contraendo i muscoli della schiena. Rimani così per 2-3 secondi, quindi torna a terra. Questa è una ripetizione. Fai 3 serie da 10-15 ripetizioni. Flessione inversa. Siediti sul pavimento con i palmi di mani e piedi a terra. Solleva i fianchi in modo che il corpo sia parallelo al pavimento e le ginocchia piegate a un angolo di 90 gradi. Coinvolge il core e guarda il soffitto quando ti sollevi. Rimani così per 2-3 secondi e scendi. Fallo per 45-60 secondi. Floor press in ponte. Sdraiati sulla schiena e piega le ginocchia. I piedi sono ben piantati a terra. I manubri vanno sopra il petto con i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Tira sui fianchi e stringi i glutei mentre premi i piedi a terra. Il corpo deve essere una linea retta dalle spalle alle ginocchia. Scendi con i fianchi e i manubri insieme. Fermati quando sei a terra. Quindi torna alla posizione del ponte mentre riunisci i manubri. Quando esegui questo esercizio non fai lavorare solo il petto ma anche i muscoli posteriori della coscia e dei glutei. Fly press. Sdraiati su una panca. Tieni i manubri sopra il petto alla distanza di un braccio. I palmi sono rivolti verso l'interno. Ora porta i manubri ai lati facendo movimenti lenti e controllati. Mentre abbassi i manubri piega i gomiti e stringi insieme le scapole. Sentirai un bel allungamento nel petto. I gomiti devono stare a un angolo di circa 90 gradi. Se non riesci ad allungarti molto riduci il raggio di movimento. Torna indietro. Contrai il petto e raddrizza completamente le braccia fino a tornare al punto di partenza. Puoi anche fare una versione inclinata di questo esercizio. Il fly press è un ottimo allenamento sia per costruire i muscoli che per rafforzare le spalle. Rematore alternato. Questo esercizio mette alla prova tutto il corpo ma fa lavorare principalmente petto e dorsali e allunga i muscoli posteriori della coscia. Mettiti in piedi sulla gamba destra e afferra una superficie stabile ad esempio una panca con la mano destra. Ora piegati porta il petto in avanti e solleva la gamba sinistra. Prendi un manubrio con la mano sinistra e alzalo fino al punto vita. Tieni i gomiti piegati a un angolo di 90 gradi. Dopo 10 ripetizioni cambia lato. Se lo fai bene non dovrai usare per forza una panca. Questo esercizio ti dirà se hai un buon equilibrio e lo migliorerà se necessario. Mantieni il core impegnato e la schiena dritta. Non far piegare le spalle in avanti. Pressioni con manubri. Questo esercizio lavorerà la parte superiore della schiena, il core, le braccia, le spalle e il petto. Impugna i manubri e mettiti in posizione di plank. I palmi sono rivolti verso il basso. Fai queste flessioni sulle punte dei piedi ma se non sei pronto mettiti in ginocchio. Il core deve essere fermo e teso e la schiena dritta. Scendi con il corpo vicino al pavimento ma non toccarlo. Piega i gomiti e fermati prima di tornare nella posizione di partenza. Quando sei nella posizione di partenza ruota le spalle in basso e indietro. Piega il bacino per proteggere la parte bassa della schiena dai troppi sforzi. È un esercizio per tutto il corpo. Se queste flessioni sono difficili fai quelle normali finché non padroneggerai le altre. Chest fly in piedi. Questo esercizio è buono per braccia, spalle e petto. Stai in piedi con i pesi in mano. I piedi si trovano alla larghezza delle spalle e le braccia lungo i fianchi. Porta le braccia all'altezza di spalle e petto. I palmi delle mani vanno rivolti verso il soffitto quando sono in alto e le braccia sono parallele al pavimento. Concentrati sulla forma corretta piuttosto che sul numero di ripetizioni. Tieni la schiena dritta e il core impegnato. Guarda davanti a te e non abbassare la testa. Inizia con dei pesi leggeri e dopo aumenta gradualmente. Dump bell fly con palla. Se hai una palla per esercizi usala. Allenerà tutto il corpo e migliorerà l'equilibrio. Siediti sulla palla con i piedi distesi in avanti. Cammina finché il collo, la parte superiore della schiena e le spalle non sono sulla palla. Il corpo dovrebbe essere parallelo al suolo mentre le ginocchia formano un angolo di 90 gradi. Tieni i pesi tra le mani. I palmi devono essere rivolti verso il centro. Ora allunga le braccia finché non sono perpendicolari al pavimento. Abbassa lentamente i pesi ai lati controllando il movimento. Quando senti un bel allungamento nel petto e i manubri sono puntati verso l'esterno, fermati. Torna alla posizione di partenza. Stringi il petto quando le mani tornano insieme. Farai lavorare i muscoli pettorali. Se vuoi avere una migliore assistenza e supporto dalle gambe, allontana un po' i piedi. Ma se vuoi renderlo più impegnativo, tienili vicini. Pullover con manubrio e palla. Mettiti nella stessa posizione di partenza dell'esercizio precedente. I piedi vanno avanti finché la parte superiore del corpo non è ben piatta sulla palla. Tieni le ginocchia piegate e il corpo parallelo al suolo. È la posizione del ponte. Entrambe le mani tengono un'estremità del peso sul petto. Le braccia sono dritte e il core è impegnato e fermo. La parte bassa della schiena è più dritta possibile durante l'intero allenamento. Ora abbassa il manubrio sopra e dietro la testa. Le braccia devono essere in linea con il resto del corpo. È un movimento lento e controllato. Non far oscillare il manubrio. Fermati e solleva il peso finché non torni alla posizione di partenza. Se non hai una palla per esercizi, mettiti sul pavimento con i piedi leggermente sollevati. Così metterai alla prova ogni parte del tuo corpo. Svend press. Mettiti in posizione eretta, i piedi alla larghezza dei fianchi, il petto in fuori, le spalle indietro. Afferra i manubri con le mani, palmi verso il basso. Le braccia vanno piegate al gomito e i manubri paralleli al suolo. Sei nella posizione di partenza. Allunga le braccia e spingi i pesi finché non sono dritte. I muscoli del petto devono essere impegnati quando tieni le braccia in questo modo. Tenti completamente i muscoli e stringi i pesi per tutto l'allenamento, in modo da poter mantenere la tensione costante nei muscoli del torace. Fai una pausa, poi torna alla posizione di partenza. Crash press. Questo esercizio è noto anche come squeeze press e si concentra sulla parte centrale del petto. Devi metterti su una panca con due manubri in mano. Tienili sul petto. I palmi devono essere uno di fronte all'altro. Premili insieme al centro. Questa è la posizione di partenza. Mentre i pesi sono premuti insieme, portali in alto sul petto. Fallo lentamente. Fermati un momento, contrai i muscoli del petto e, molto lentamente, fai il contrario e torna alla posizione di partenza. Chest press in piedi. Prendi un manubrio, mettiti in piedi con le gambe alla larghezza delle spalle. Le mani sono su entrambe le estremità del manubrio. Tienilo tra i palmi, all'altezza del petto. Piega leggermente le braccia all'altezza del gomito. Stringi il manubrio con i palmi. Attiverai i muscoli del torace. Le braccia sono distese e dritte e spingono il manubrio lontano dal petto. Torna alla posizione di partenza. Non abbassare il manubrio e impegna il core per non sforzare la parte bassa della schiena.